Chiusi della Verna accoglie il campus residenziale di Oida per il secondo anno. Natura, spiritualità e musica. Si parte da oggi. Ci sarà la seconda edizione del nostro campus che ha avuto un successo incredibile. Ci sono iscritti tantissimi ragazzi e terminerà il 16 luglio, quindi è un campus residenziale dove i ragazzi saranno lì a mangiare e dormire e lavorare tutto il giorno. Il sabato 16 a Chiusi della Verna al santuario ci sarà lo spettacolo finale. Tantra tre ragazzi dell'età dai 10 ai 15 anni. Abbiamo tantissimi operatori guidati da Wolfangodami che sarà il direttore e con il supporto fondamentale di Spazio Seme, Gianni Bruschi, Leonardo Lambruschini e Francesco Botti che arricchiranno ulteriormente questa proposta. Lo scorso anno ha avuto un bellissimo successo, quest'anno abbiamo raddoppiato quindi siamo molto molto contenti evidentemente e la proposta è piaciuta e i ragazzi sono tornati a casa davvero entusiasti.